Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, grave episodio a Pieve Santo Stefano in località Ospedaletto in Valtiverina dove un uomo che si trovava nei boschi insieme al proprio cane per cercare tartufi al suo ritorno ha trovato l'auto incendiata sulla vicenda. Stanno cercando di fare chiarezza ai carabinieri della stazione di Pieve Santo Stefano per quanto a quanto pare l'origine del rogo sarebbe dolosa e sempre secondo alcune indiscrezioni alla base dell'accaduto ci sarebbero presunte rivalità tra tartufai. Quest'ultimo non sarebbe l'unico episodio che è stato registrato nella zona. Una notte decisamente movimentata quella del capodanno e sono stati molti gli interventi di EMPA per salvare gli animali impauriti dai botti. Gli ultimi giorni dell'anno, i primi giorni del nuovo anno sono sempre un terrore per loro. Tanti cani e gatti che sono così scappati per la paura. È stata così ancora una volta una notte di capodanno di interventi per l'EMPA di Arezzo. Già avevamo iniziato il 30 sera a ricevere chiamate per cani smarriti o per cani vaganti perché già purtroppo qualche botto c'era anche il 30. Il 31 invece abbiamo alla fine preso quattro cani. Per fortuna non erano feriti, stavano bene, muniti di microchip e sono tornati a casa loro. Nella giornata di ieri invece abbiamo ricevuto molte chiamate per cani smarriti nelle vallate perché si lamentavano che lì i botti sono stati davvero tanti. Non è migliore di certo la situazione per i gatti con numerose chiamate di referenti di colonie feline ancora alla ricerca dei mici scomparsi. Le gattari ci hanno chiamato per sapere se magari avevamo avuto delle segnalazioni o avevamo fatto degli interventi per gatti magari incidentati perché non li hanno trovati al momento dei pasti. Enpagliarezzo torna così a chiedere un capodanno senza botti non solo nei centri storici ma anche nelle frazioni e nelle campagne. Per gli animali è una tragedia, cioè veramente terribile, ci stanno male e per fortuna che quest'anno l'incidente non c'è stato perché poi dopo è un pericolo per l'animale ma anche per il cittadino. Un tema caldo di questo 2024 saranno anche gli accorpamenti di alcune scuole a seguito dell'emanazione del decreto 1000 proroghe del 30 dicembre che proroga appunto fino al 5 gennaio il termine per l'approvazione dei piani di dimensionamento scolastico da parte delle regioni e che soprattutto concede proprio a quest'ultime l'opportunità di rivedere in deroga l'obbligo di dimensionamento rispetto a quanto previsto inizialmente. È la provincia di Arezzo ad intervenire sul tema con una nota che rappresenta con forza la necessità di salvaguardare l'autonomia scolastica dell'istituto Giovagnoli Buitoni AC di Sansepolcro. Tale misura di Celente nella fattispecie risulterà fondamentale ai fini organizzativi per garantire appunto all'ISIS che si creerà nell'anno successivo in accorpamento con il liceo Città di Piero e Lite Pacioli per un passaggio di dirigenza all'insegna della continuità a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Un altro tema caldo di questo 2024 sono i rincari. Le famiglie spenderanno circa 1000 euro in più all'anno. Anno nuovo, rincari nuovi. Il 2024 porterà infatti brutte sorprese per le tasche dei consumatori con diversi aumenti di prezzi e tariffe previsti nei vari settori. Il conto potrebbe raggiungere secondo l'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori oltre 1000 euro di rincari a famiglia. L'inizio del 2024 coincide, come noto, con la fine del mercato tutelato e l'inizio di quello libero del gas. Un passaggio che riguarderà nelle prossime settimane ben 5 milioni di famiglie in tutto il bel paese ad esclusione delle persone vulnerabili. Il Consiglio per i cittadini è non avere fretta perché non viene staccato il gas. Soprattutto verificare nei siti deputati di Arera che è portale offerte www.portaleofferte.it che è il sito di Arera e lì inserendo tutta una serie di dati che sono dove insiste l'utenza, da quante persone è servita l'utenza, quanto è grande la casa ed altre informazioni che viene richiesto di inserire, compariranno tutte le offerte in vigore nella zona. Non mancano poi rincari in campo alimentare, della ristorazione, trasporti, assicurazione auto, servizio idrico, smaltimento di rifiuti, tariffe, tasse e imposte locali. Previsti anche aumenti per quanto riguarda i pedaggi autostradali che registrano un più 2,3% in linea con l'inflazione del 2024. L'andamento degli ultimi mesi però dimostra come l'inflazione non sia più galoppante come un tempo, se a gennaio 2023 registrava un più 10%, a novembre del 2023 la crescita era del più 0,7% come segnalato da Istat. Una segnalazione che ci arriva da via Fiorentina ed in particolare dal ponte sul fiume Castro. Qui è stato abbandonato a quanto pare ormai da settimane, forse anche mesi, un monopattino. Come vedete da questa foto, giace proprio sul letto del fiume. Ad inviarci la foto, come dicevamo, è stato un nostro telespettatore. Si tratta di uno dei monopattini che erano stati introdotti da poco e che è possibile noleggiare. Nel corso degli ultimi mesi erano state, lo ricorderete, non poche le segnalazioni proprio dei monopattini abbandonati in vari angoli della città. E non solo, ma insomma di certo uno appunto che giace sul letto del fiume Castro non ci era mai capitato. E allora parlando proprio di fiumi, in questo caso di corsi d'acqua, è stato indubbiamente un 2023 con un clima difficile da gestire, alcuni sostengono impazzito. E allora il Consorzio Bonifica Valdichiana traccia il bilancio appunto degli interventi in questo 2023 e poi annuncia quelli dell'anno in corso. Dall'esplorazione delle sponde in Canò alla costruzione del baby villaggio sul torrente Chiassa per insegnare i bambini a vivere sul fiume. Dalla conquista delle risorse per dare il via al disteretto e riguo 23 alle lavorazioni a tappeto in tutto il comprensorio. Si è così chiuso il 2023 per il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che era chiuso in un calendario e fatti più significativi. Devo dire che tutto il piano dell'attività dell'anno 2023 è stato realizzato. È stato realizzato molti degli interventi addirittura in anticipo rispetto a quelli che erano le tempistiche che ci eravamo dati. Per ora stiamo facendo ogni anno meglio del precedente e questa è una grande soddisfazione. Come direttore non posso ringraziare nuovamente l'astruttura e essere veramente contenti di quello che stiamo perseguendo. Per il 2024 l'attività come è stato deliberato nell'assemblea scorsa con il piano di attività che è incrementale rispetto a quello precedente. Abbiamo un aumento di oltre il 10% delle attività previste. È sempre poco perché i bisogni del territorio sono tanti, però d'altra parte i bisogni del territorio. Poi per quanto riguarda la monotoniazione ordinaria e quelle che sono le tematiche relative all'irrigazione ce le autofinanziamo tutte. Poi chiaramente il territorio con scarsità di interventi strutturali ce ne è sempre più bisogno ma si tratta di interventi di natura, di strutture vere e proprie, pure nuove opere che mancano per mettere più in sicurezza o ancora più in sicurezza il nostro territorio. Siamo ormai nell'ultima settimana di festività, quella che ci porterà poi all'Epifania e con domenica 7 gennaio davvero tutte le iniziative legate alla città del Natale termineranno. Rimangono di fatto in piedi, come ci siamo già detti, tutte quelle legate alla zona del Prato e della Fortezza ma proprio ieri abbiamo salutato il mercatino tirolese e la casa della Lego che quest'anno hanno raggiunto numeri davvero impressionanti. È andata molto bene, molto bene perché c'è stata tantissima affluenza. È andata molto bene, molto molto bene, è venduta tantissimo dal primo giorno fino all'ultimo quindi chiusura con il botto perché ancora vediamo un sacco di persone e comprano in tantissimi. Saluta Rezzo così con un bilancio più che positivo il villaggio tirolese che nell'ultimo giorno in Piazza Grande già prenota l'edizione 2024. Un mercato natalizio unico con espositori provenienti dal Tirolo, dall'Austria e dalla Germania. Sicuramente la curiosità, poi la merce che indubbiamente attira la gente. Chiude così un pezzo della città del Natale tra i più apprezzati che ha portato in città anche nuove opportunità di lavoro. Lavorano un sacco di persone per questo mercatino e quindi ci sono tanti posti di lavoro, aiutano tante ragazze, anche ragazze giovani come prime esperienze lavorative sicuramente per crescere. Il primo gennaio è stato l'ultimo giorno anche per visitare la Casa delle Lego, una tra le attrazioni di punta, adesso in cerca di una nuova collocazione per la prossima edizione con la Galleria d'Arte Contemporanea, pronta ad accogliere le opere del Vasari nell'anno delle celebrazioni per il 450esimo anniversario della morte. Tantissime famiglie e bambini provenienti da ogni parte d'Italia e quindi siamo molto contenti come Confcommercio di aver dato alla città di Arezzo per l'ennesima volta un altro grande evento che ha calamitato davvero tantissimi turisti da tutta Italia. Ogni anno si rafforza, cresce, migliora e arriva ad un pubblico sempre più vasto quindi siamo davvero soddisfatti di aver portato ulteriormente indotto alla città, penso ai commercianti, penso ai ristoratori, agli albergatori che hanno occupato le camere alberghiere fino al 98% di occupazione, quindi questi sono dati davvero importanti per una città che dal punto di vista turistico sta crescendo molto. Restano invece sino a domenica 7 gennaio in città le meraviglie del Prato e della Fortezza oltre ai mercatini di Piazza Sai Jacopo e Piazza Risorgimento. E con l'arrivo dell'Epifania anche il conto alla rovescia per i saldi invernali di questo 2024 al via venerdì 5 gennaio c'è grande attesa anche da parte dei commercianti. Partono venerdì 5 gennaio i saldi invernali di fine stagione atteso uno sprint ad un'impennata delle vendite nei negozi di vicinato che restano la meta preferita per i saldi tradizionali. La spesa pro capita e secondo le stime di Confesercenti va dai 135 ai 170 euro. I consumatori generalmente, commenta la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, da sempre premiano i negozi di vicinato per i saldi ed è proprio per questo che c'è attesa anche da parte dei commercianti che vedono in questo momento quello migliore per incrementare le vendite. Vendite fino ad oggi frenate anche proprio dalla data di avvio dei saldi invernali per i quali Confesercenti ha tentato lo slittamento. L'associazione a livello nazionale ha infatti ritenuto opportuno richiedere lo spostamento a sabato 3 febbraio 2024 a causa del protrarsi delle alte temperature che hanno caratterizzato i mesi autunnali fino alla fine dell'anno, rallentando le vendite dei capi di abbigliamento. Purtroppo non è stata accettata la richiesta. Adesso quindi si punta al periodo dei saldi che durerà 60 giorni per recuperare incassi e fiducia nel settore di abbigliamento, calzature, intimo e articoli per la casa. L'auspicio è anche quello, conclude la direttrice, che l'effetto saldo prosegua durante l'intero periodo. Ad Arezzo l'avvio coinciderà anche con il weekend di Fiera Antiquaria e quindi magari al popolo dello shopping a prezzo scontato potrà aggiungersi quello di turisti e visitatori che arriveranno in città per godersi, oltre al circuito dell'antiquariato, anche l'ultimo weekend della città del Natale. Si inizia quindi con i saldi che saranno, secondo le stime della vigilia, senza subito con percentuali interessanti. Si parte dal 30% anche se c'è chi fin da subito proporrà il 50% per poi alzare nelle prossime settimane ancora la scontistica. Un anno che si è concluso con una visita davvero particolare al Museo Civico di Lucignano, il sottosegretario alla Cultura e Critico d'Arte Vittorio Sgarbi ha appunto concluso il suo 2023 di fronte all'albero della vita. Finiamo l'anno come nessuno, nel luogo più bello del mondo, Lucignano. È bello perché è un paese indimenticabile, con un'urbanistica medievale che di casa in casa ti porta dentro il passato e poi è illuminato, illumina tutta la Toscana con l'albero della vita, quest'albero meraviglioso. Così Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, noto storico e critico dell'arte, in un video diventato virale sui social. L'ultimo giorno dell'anno, Sgarbi si è concesso infatti un tour tra le bellezze architettoniche e artistiche della Val di Chiana, con una tappa anche al Museo Civico di Lucignano, che custodisce l'opera che nel 2015 fece bella mostra di sé all'Expo di Milano. E fu dominante l'entrata, chi arrivava vedeva per terra l'Italia di Gaetano Pesce e in avanti quest'albero della vita, che è l'emblema stesso dell'augurio, la vita. Sgarbi, di fronte al reliquiario unico al mondo, risalente al XIV-XV secolo, alto 2,60 m, realizzato in oro, coralli e pietre preziose, recentemente balzato agli onori delle cronache per il ritrovamento di alcune parti trafugate, oggetto di un delicato restauro a cura dell'opificio delle pietre dure di Firenze, si è lanciato in un bilancio personale senza far mancare i suoi auguri. I coralli ti augurano buona fortuna, buona fortuna a tutti voi italiani. I coralli erano il desiderio di mia madre che temeva la sfortuna che talvolta ci perseguita, temeva i violenti che talvolta ci vogliono fare del male e cercava di sconfiggerli attraverso i coralli, mi portava al colo. Mi trovo qua. A mia madre dedico questi auguri, che sono per tutti voi, perché quest'anno sia un anno in cui si vinca con le buone idee ciò che è contro la bellezza, contro i cittadini, contro le persone per bene, che sia veramente di resistenza contro il male. Auguri, auguri, auguri. E il 2024 invece è iniziato in musica, come sempre una tradizione che si rinnova ogni anno al Teatro Petrarca di Arezzo, il concerto di Capodanno di Oida. Arezzo ha inaugurato il 2024 con il tradizionale concerto di Capodanno, promosso da Comune e Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica di Oida. Appuntamento come sempre al Teatro Petrarca, preceduto da una prova generale aperta al pubblico, tutto soldata. Siamo felicissimi, davvero, non credo sia mai successo che in due giorni si sia riempito il teatro tre volte. Questo ci riempie di una grandissima gioia, ringraziamo la città che ha voluto darci questo abbraccio, ma anche di una bella responsabilità. Proposto al pubblico un programma variegato, in equilibrio tra scoperta e tradizione, con l'intento di rendere anche un momento di celebrazione e leggerezza un'esperienza musicale piena e concreta. Un programma all'insegna sicuramente dei temi popolari, dei temi noti, però azzardiamo anche qualcosa di più particolare. Partiamo dalla Francia con Bizet, Arlesien numero due, temi molto popolari. Passiamo a un brano un po' particolare, che però basandosi su temi brasiliani è molto interessante, si intitola Il bue sul tetto di Mio, e poi a un altro autore francese, Delib, con alcuni suoi temi molto molto conosciuti. Per finire poi con l'Austria e le consuete musiche popolari austriache, quindi walser e polche. Mi aspetto che da un concerto di Capodanno finisca sempre con la marcia della Deschi, il pubblico è una cosa che apprezza molto, ma è comunque un momento molto divertente, tra l'altro noi avremo preparato anche un ulteriore bis in cui chiederò l'aiuto del pubblico e il sostegno con le loro mani. Pensando dunque alle varie iniziative che ci porteranno, come dicevamo, al termine di queste festività, parliamo dell'Epifania. Sarà una befana della biodiversità, quella che si svolgerà venerdì 5 gennaio a partire dal 9.30 in piazza San Domenico e via della Balilla ad Arezzo. Saranno i carabinieri forestali del reparto Biodiversità e del reparto Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi insieme ai ragazzi di Casa Tevenin e del Centro Sportivo Italiano a festeggiare l'Epifania con giochi e attività a tema ambientale insieme al Pony Pedro e al Cane Titan. Ad Arezzo invece torna giovedì 4 e venerdì 5 gennaio la tradizionale vendita della scopina Spazzaguai del Calcit. Un appuntamento anche questo tradizionale in piazza San Jacopo addirittura iniziato negli anni 2000 il ricavato sarà destinato allo scudo a servizio di cure domiciliari oncologiche. Un appuntamento invece dedicato ai più piccoli al Museo archeologico di Arezzo sempre venerdì 5 gennaio dalle 17 alle 19 il museo presenta i giochi dell'antica Roma un incontro curato da Monica Silvestri archeologa specializzata nello studio e nella sperimentazione dei giochi antichi che illustrerà attraverso testimonianze storiche e archeologiche il mondo dei giochi appunto nell'epoca romana. Ed infine chiudiamo con una notizia di sport capodanno di corsa ieri a San Giovanni Valdarno la prima gara del 2024 con la 47esima edizione della manifestazione circa 300 gli atleti Alvia a primeggiare è stato il keniano Loitan Young vincitore dell'edizione 2023 con un vantaggio di circa 50 metri su Gasmi il terzo posto si è deciso invece con una volata lunghissima in cui Lorenzo Mori dell'Unione Polesportiva Policiano è riuscito a spuntarla su un altro atleta invece di Sant'Arcangelo di Rimini nella gara femminile arrivo solitario della giovane promessa azzurra Giulia Bernini dell'atletica futura la gara era valida come prima prova del 32esimo scusate Grand Prix è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci